Gloria, allora siamo qui con Sabrina Ferini e Emanuella Grimalda. Alle Signore, Gloria alle Signore. E proprio dalle Signore vorrei partire, perché in chiave di commedia questa serie, che devo dire veramente divertente, mette in luce poi quello che è un problema del cinema italiano soprattutto, cioè che per le Signore i bei ruoli non vengono scritti a differenza di quanto invece accade a Hollywood. Questo può rappresentare un inizio di inversione di tendenza? Ah, sarebbe bello, fosse così. Sì, rispondite che sei più preparata. Lei è quella impegnata. No, ma i ruoli per le donne... L'attrice impegnata, io sono l'attrice di intrattenimento. Siamo belle e impegnate. No, diciamo che sicuramente i ruoli femminili sono genericamente minori come numericamente, intanto, che non è una cosa secondaria. La quantità, dopo una certa età, sì, questa rarefazione aumenta. Non è che a Hollywood stanno messi tanto meglio. Grossissime attrici hollywoodiane hanno lamentato questa difficoltà. Le cose si stanno muovendo. Io, infatti, sono contentissima del ruolo di Iole, perché è un ruolo strano, diverso da quelli che potrebbero arrivare. Perché, appunto, uno dice che fa una donna? E questo personaggio è un personaggio, appunto, particolare. C'è stato un gusto nel crearlo, nel condividere delle cose. Quindi sicuramente se propone nuove possibilità è bene anche questo. I nostri personaggi sono i protagonisti, quindi sotto un certo aspetto noi abbiamo, ecco, sovvertito queste regole. E sono anche due personaggi non laccati, non di cliché. Insomma, questo è un film che, a mio giudizio, è funzionante, è anche nuovo. È una bella boccata d'ossigeno proprio per questo. Sono tutti personaggi non da cliché, non corretti, fintini, leccatini. Sono personaggi così che hanno sbagliato, che sbagliano, inquieti, scorretti. E poi ti è stato proprio cucito addosso questo personaggio. Anche, sì, beh, questo è un po' per tutti, perché diciamo che c'era una pianta di quello che era la sceneggiatura. Poi, a mano a mano che gli attori hanno accettato, è stato cucito. L'imbastitura è diventata cucitura. Ma c'è qualche grande attrice, magari anche appunto hollywoodiana, a cui hai pensato, a cui ti sei ispirata per caratterizzare il personaggio? No, però quelle dive anni 50, americane, la Crawford, eccetera, un po' quelle... No, ho visto tanta filmografia sua, un po' quell'immagine lì ce l'avevo in testa. È una delle chiavi vincenti della serie, è proprio l'autoironia che ci metti nell'interpretarla. Vabbè, quella è mia, mi appartiene e il personaggio che è stato scritto per me, appunto, comprendeva che avessi entrambi le cose. E quella è una delle, assolutamente, delle chiavi, insieme ad un cast affiatato. Ma Emanuela, il tuo personaggio viola come fa a sopportarla? Perché siete amiche, coinquiline... Ma io la sopporto solo perché sotto Gloria c'è Sabrina. E quindi, diciamo che... Finito il ciocca, poi... No, devo dire che veramente è stato un piacere anche... Anche tante cose sono nate dal nostro modo di scherzare, è stato anche un incontro. È un incontro umano e professionale. Molte cose ce li siamo improvvisate anche, eh. Perché poteva non succedere, no? Io poi, appunto, lei è una diva e io incontravo Sabrina Ferilli. E tremavo alla lettura del copione. Insieme a Gloria alla diva. Senti quante dive c'erano. E io dicevo, bah... E invece poi abbiamo trovato... A parte che ho incontrato una donna intelligente, stupenda, meravigliosa, una professionista, veramente molto generosa e rispettosa. E ci siamo trovate. Quindi tante cose sono nate da questo scherzo, da questo... Da questo modo di essere, di scherzare. Sai, poi la risata è veramente la cosa su cui ti tari. Se ridi sulle stesse cose, è fatta. Cioè, non puoi andare d'accordo con chi ride di cose che a te non fanno ridere. Non lo so. È un modo proprio di incontrarsi, di far ridere una cosa. Di similitudini, di anime proprio. Sì, è una cosa che ti avvicina. Quindi è stato anche molto importante che si sia creato questo rapporto. Non avevo dubbi, perché poi io ci credo molto. Cioè, credo veramente in generale in un cast che è stato tutto così, molto generoso e divertito. Ma non avevo dubbi che ci fosse un'attrice, una donna intelligente. Quindi non mi sono posta a nessun problema in questo senso. Quindi è molto normale per me questo. Però devo dire che è stato bello lavorare su qualcosa che è nata anche su cose che sono nate. Anche perché io faccio un personaggio di una donna che comunque è innamorata di lei. Però è tutta una cosa che non è vissuta. Quindi è tutto sotto traccia. È stato bello e si è potuto sviluppare e creare perché c'era una sintonia anche tra noi, persone, donne. Perfetto. Allora, grazie. E Sabrina, anziché venderci la crema con la bava di lumaca, darci l'appuntamento. Esatto. Allora, lunedì 19 sul Rai 1 in prima serata. Gloria! Grazie e complimenti. A voi.